Ciao sono Maggio, oggi andremo a vedere un bravissimo video con i primi minuti di gameplay di Onkai Star Rail Il seguito di Genshin Impact, o meglio, fatto dagli stessi di Genshin Impact, ma il seguito spirituale di Onkai Vabbè, insomma, un gioco fatto dalla Oyo, fatto molto bene a mio avviso Le meccaniche di gioco sono molto diverse da quelle di Genshin Impact Le meccaniche su come prendere i soldi sono esattamente le stesse E il character design? Andiamocelo a vedere E finalmente possiamo andare a provare Onkai Star Rail Dopo tanta attesa Gioco alla lingua inglese, non all'italiano purtroppo, ma come è successo per Genshin Impact potrebbe arrivare in un secondo momento Se avrà successo anche da noi Il gameplay, vedrete, sarà molto diverso da quello di Genshin Ma lo stile è quello Cambia l'ambientazione, ovviamente futuristica in questo caso Sembra che sia arrivato in un brutto momento No, non avresti potuto trovare un tempo migliore per arrivare Molto puntuale Kafka Cos'era questa esplosione? Era parte della trama? Insomma, sta parlando del fatto che c'è stata un'esplosione Lei pensa che sia stato il computer In realtà no, dice che è stata la legione dell'antimateria Qualunque cosa sia Che hanno invaso la stazione, quindi Quindi dobbiamo combattere la legione? Non lo so Non mi ha detto nulla Elio, quindi non mi importa Ok Quindi da ora in poi comando io in quest'operazione Ok Mi puoi far divertire un po' stavolta? Le ultime sono state piuttosto pallose Mi dispiace ma non c'è molto che posso fare per te Dobbiamo semplicemente occuparci dell'obiettivo in maniera consistente Ma se ti divertirai per conto tuo non ti stoppo Non ti fermo, fai come ti pare Ma al fine Il stile grafico è sempre bellissimo E parte Subito con un fight Perché? Perché a differenza di Genshin Impact Non abbiamo un action RPG in terza persona Ma abbiamo un JRPG Ovvero un gioco di ruolo a turni giapponese Allora, usiamo l'attacco base Come dal loro richiesto Che siamo in una fase tutorial Non si può fare diversamente evidentemente Qua ci obliterano Adesso posso selezionare l'altro E tirargli questa cosa qua Olè Battle over Ok Move your character Ok L'RB si sprinta O no Anche troppo In alto a sinistra abbiamo la mappa Che ci dice l'obiettivo La camera è bloccata La camera è bloccata Non possiamo muoverci Liberamente In certi punti Ora su Fondamentalmente dobbiamo liberare La stazione da tutta sta gente Questo è un di secondo livello Anime info Io ho pigiato Il tasto Della leva a destra E vedete cosa ne viene fuori Un po' di info Sugli avversari Allora Ok Adesso ce l'abbiamo in range Se selezioniamo questo Entriamo in combattimento E lo prendiamo Con una debolezza Probabilmente perché Non se l'aspettava Madonna Quanta gente abbiamo contro Mi sembrano un po' tantini Allora Tutti i personaggi Hanno un ultimate Che viene utilizzato Quando è full Quella barra Quando insomma Quel cerchio Quella cosa lì è piena E devi combattere i nemici Per rigenerare Quell'energia Ok Madonna Ma così mi sacagnano Di bombe Sono 5 contro 1 Mi sembrano Tantini Ma immagino E servono Per Fullare la barra Dell'ultimate Che adesso è piena E quindi Obliteriamo Che succede Twilight thrill Ok Belle le animazioni Belle Mamma mia Mamma mia Oh no No Girati Che succede L'abbiamo fatta Bloccarla E ci abbiamo La tizia Ci ha salvato Il culo Fondamentalmente Dove hai mandato Silverwolf Qualche coordinata A casa Non importa Invece ti interessa Dove è finito Void Ranger No Ovviamente no Era semplicemente Impressionato Dalle tue tecniche Come al solito È soltanto Un trucchettino Con I dati Della realtà Lo stai guardando Così intensamente Fammi vedere Sta guardando un catalogo Di gadget Tipo C'è quest'arma Che può dare Una valutazione Di ogni creatura All'interno Del mirino Da 0 a 100 Sembra molto interessante Non ti interessa Sapere quanto è Il tuo punteggio Io vorrei sapere Il mio Ok Penso ci potremmo divertire Con la cosa Dov'è la destinazione Corridoio Dopo la porta a sinistra C'è una Una stanza Con degli oggetti Rari Dove c'è lo Stellaron Penso che lo scopriremo Andando Quindi adesso La missione Ci dice D'andare là Switch your team New addictions Wilberwolf Ok Quindi volendo Si può switchare Personaggi Esattamente come In Genshin Impact E direi che ci possiamo Fermare qui Perché quello Era importante vedere Era l'ambientazione La grafica E il tipo di giochi Che è un JRPG È un gaccia Quindi abbiate La stessa pazienza Di Genshin Impact Perché le meccaniche Di base Su come tu Ropinarvi i soldi Sono le stesse Quindi se vi piacevano Di qua Vi piaceranno anche di qua Cambia Quello che è il combat system Spero che il video Vi sia servito A capire se il gioco Fa per voi Vi ringrazio per il tempo Passato insieme Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao